Polizia Urbana caccia di parcheggiatori abusivi all'ingresso del pronto soccorso del Bambin Gesù, uno dei più grandi e frequentati di Roma, con pazienti che arrivano da ogni parte d'Italia. Approfittano dell'urgenza dei malati e dei loro familiari, che di solito in quella circostanza sono disposti a tutto pur di fare in fretta, spiegano dal comando dei vigili urbani un vero e proprio racket a cui porre fine, perché spesso si tratta di persone insistenti e in alcuni casi aggressive nei confronti dei poveri malcapitati. Durante l'ultimo controllo gli agenti hanno fermato 5 persone, tutti indiani, proprio vicino alla loro sede, mentre infastidivano cittadini e turisti chiedendo con insistenza denaro. Un po' come è accaduto con un bulgaro che nel tempo ha collezionato 10 denunce. Nel corso delle ultime retate i vigili hanno fermato 10 parcheggiatori abusivi, protagonisti di vari metodi estorsivi in vari quartieri della città. Cinque di questi taglieggiatori sono stati anche denunciati all'autorità giudiziaria per reiterazione dell'attività illegale, come i parcheggiatori dello stadio olimpico, che impiegavano i coni della segnaletica stradale per occupare gli stalli liberati. Solo dietro compenso, per tutti i fermati è stato disposto l'ordine d'allontanamento previsto dal regolamento di polizia urbana.